Boss in guerra, al borgo di una Napoli che sopravvive tra patti, tregue, equilibri e fratture di camorra, tra interessi criminali differenti. Una terra di mezzo tra stazione e centro antico, dove il core business della mala è proprio il racket. E i boss sono in guerra, se si pensa che nel buvero di Napoli c'è anche il ras dei Contini, tornato in libertà e pronto a riprendersi il giro del racket, così florido proprio in quella zona. Il duplice omicidio di Salvatore Dragonetti ed Edoardo Amoroso è accaduto proprio lì, in quel budello del borgo, a due passi dalla stazione Garibaldi. Un duplice omicidio forse per la conquista delle estorsioni in quella zona di Sant'Antonio, un assalto al cosiddetto Cassiere della Camorra. Quei due uomini erano legati ai Giuliano e ai Mazzarella, e c'è un dato dal quale partono le indagini del pull anti-camorra. Di recente si sono trovati liberi due soggetti di spessore criminale uguale e contrario, vale a dire Edoardo Amoroso, come testa di ponte delle famiglie Giuliano e Mazzarella, prima che anche tra questi due gruppi si scatenasse una recente frizione, è uno dei reggenti del clan Contini, entrambi in libertà. Finite le scorribande dei Sibillo, disarcionati Buonerba, Amoroso e Dragonetti, avrebbero forse provato a fare la voce grossa proprio in materia di estorsioni. Chiaro comunque il movente del doppio delitto, oltre alla droga anche il racket, esattamente come avvenne mesi fa, quando alcuni cittadini extracomunitari provarono a ribellarsi al pizzo imposto dai napoletani nel sistema della duchesca.